Giovedì 10 marzo, presso la sala giunta del capoluogo Giuliano, viene presentata Trieste Fotolab. Assessore, Trieste Fotolab è comune di Trieste binomio vincente. Assolutamente sì, siamo felici di collaborare per questa progettazione che riguarda appunto il mondo della fotografia e che offrirà ai giovani in due particolari segmenti, quelli dai 13 ai 18 e dai 18 ai 30. l'opportunità di conoscere di più questo fantastico mondo della fotografia del tutto gratuitamente perché i corsi si svolgeranno al Polo Toti e nei due ricreatori Nordio e Pitteri e daranno la possibilità dunque a questi giovani che si iscriveranno attraverso i canali social del Comune di Trieste e quelli dei Trieste Fotolab a questo corso che potrà appunto avvicinare il mondo della fotografia e potrà dar loro poi un contributo in futuro sia per il mondo del lavoro sia per avvicinarsi a questa bellissima professione. Presidente, cos'è Trieste Fotolab e come si articola? Allora, cominceremo da martedì prossimo, 15, pomeriggio e dopo sarà lo stesso incontro che sarà con Tomesani che inizierà un discorso a 360 gradi sulla fotografia iniziando dal lato legislativo a come veicolarla e dopo proseguiremo con altri incontri dove ci saranno dei professionisti che illustreranno i vari passi della fotografia sia dalla ripresa e basata anche su una fotografia di cronaca, ecco, che è quella che magari dà più nell'occhio e dopo passiamo al discorso della fotografia, come si veicola con la macchina fotografica e veicolarla con lo smartphone e dopo fotoritocco e gestione del colore. Vicepresidente, collaborazione tra DotArt e Centofoto, quanto è importante Trieste Fotolab? Trieste Fotolab è un progetto molto importante perché coinvolge i giovani e i professionisti della fotografia è un'occasione per ripartire per i professionisti, per riconfrontarsi con i colleghi e aprirsi di nuovo a questo settore, a questo lavoro che ha sofferto un po' durante la pandemia e per i giovani soprattutto per anche avvicinarsi ad una professione. Quindi metteremo assieme queste due categorie che in qualche modo si confronteranno e dialogheranno tra di loro i professionisti trasferiranno le loro esperienze, le loro professionalità ai giovani i quali attraverso una serie di lezioni, di attività sul territorio e di esperienze fisiche potranno poi produrre e realizzare dei progetti. È un percorso formativo naturalmente di approfondimento che si concluderà poi, avrà diciamo il suo momento clou nel secondo weekend del Trieste Fotodaysi, il festival di fotografia internazionale che da nove anni DotArt organizza qui a Trieste. Iscrizioni gratuite ricordiamolo per Trieste Fotolab Sì, iscrizioni gratuite perché Trieste Fotolab è un progetto finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia grazie al bando Ripartenza Cultura e Sport con il quale e anzi grazie al quale possiamo offrire questa attività per i giovani per aiutarli a partire ed approfondire o anche semplicemente approcciarsi per la prima volta a questa meravigliosa arte e speriamo anche che possa diventare anche una professione quindi sì, assolutamente iscrizioni gratuite a tutte le attività di cui poi daremo ulteriori aggiornamenti nel sito www.triestfotolab.it Grazie Grazie